Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Pesaro venerdì sera hanno arrestato in flagranza un uomo straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, controllato al casello della 14 di Pesaro, era proveniente da Rimini, forse a seguito di un viaggio di approvvigionamento, e si trovava a bordo di un'auto condotta da un altro uomo, risultato estraneo ai fatti. L'evidente agitazione manifestata dal soggetto ha insospettito gli investigatori, che hanno eseguito una perquisizione personale, la quale ha permesso di rinvenire e sequestrare, oltre al suo cellulare, due involucri del peso complessivo di circa 20 grammi contenenti cocaina, occultati nelle parti intime dell'uomo. Le operazioni di perquisizione, estese anche alla sua abitazione, hanno portato al rinvenimento di un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle dosi destinate alla vendita. Il mattinata, il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto dell'uomo.